Noi siamo la troupe Gli Zero, Mattia il nostro regista, Andrea che sarei io direttore della fotografia addetta al montaggio e alle riprese e Roberto che sarebbe il nostro fonico. Abbiamo iniziato la sfida cercando di raggruppare gli attori principali, abbiamo girato una buona parte iniziale del cortometraggio, nei prossimi giorni andremo avanti costruendo la parte centrale e il finale e recuperando gli attori mancanti. Ciao, noi siamo Lefi e siamo un gruppo di tre donne come vedete, qui c'è Monica, Zeny e Valentina. Il paesino è Cernobbio che è un paesino molto carino, pieno di belle architetture tra l'altro adatte al genere horror e le persone sono molto disponibili, molto carino, un posto molto bello. Credo che anche il pubblico presente abbia apprezzato questa situazione. serata perché c'è stata la possibilità di apprezzare l'opera di un uomo multiforme come è stato il coparesi e nella sua vita li ha provati tutti. In questo film abbiamo studiato moltissimo la natura e la natura l'abbiamo trasmessa, il paesaggio non solo attraverso la fotografia ma attraverso i volti. film veramente interessante perché la crisi si ritorna spesso anche all'agricoltura, alla terra e un legame forte che si è perso negli anni per l'industrializzazione che invece adesso appunto sta tornando molto e veramente interessante anche vedere questo aspetto del Salento.